Il GR. In rete, le notizie dal mondo. La donna tedesca uscente è in cima alla classifica annuale di Forbes, delle donne più potenti del mondo per il 2019. Kamala Harris è stata la quarta donna a entrare nel team presidenziale di un importante partito politico, dopo la candidata alla vicepresidenza democratica Geraldine Ferraro, la repubblicana Sarah Palin e la candidata democratica Hillary Clinton. Il mese scorso la dottoressa Oconio Iwaela ha fatto la storia dopo essere diventata la prima donna e la prima africana a essere stata scelta come direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Le donne, a livello globale, sono in ritardo nella leadership, soprattutto negli uffici politici e nelle organizzazioni internazionali. Nonostante questo sfortunato scenario si legge su Nation, tuttavia stanno emergendo in alcune situazioni tra le persone più potenti del mondo. Tre di loro hanno deciso di non lasciare nulla al caso, finché non hanno ottenuto ciò su cui avevano puntato gli occhi. Angela Merkel, la cancelliera tedesca, si è installata il 22 novembre 2005, diventando la prima donna e la prima tedesca orientale a ricoprire la carica. È diventata cancelliera all'età di 51 anni, diventando la persona più giovane e ricoprire l'incarico fino ad oggi. È stata in cima alla classifica annuale di Forbes delle donne più potenti al mondo, ed è rimasta la donna più potente al mondo, guidando la più grande economia europea dopo aver visto la Germania attraversare una crisi finanziaria. A presiedere la quarta economia più grande del pianeta, l'ex recercatrice è ampiamente considerata la protagonista del secondo dopo guerra. L'affidabilità e le politiche centriste l'hanno resa cara a molti elettori tedeschi, leggendola per quattro mandati consecutivi. È nata Angela Dorothea Kastner nel 1954 a Hamburgo, Germania Ovest, prima di trasferirsi a Templi nel 57, dove ha frequentato il liceo nel 73. Poi si è trasferita all'Ipsia per studiare fisica presso l'Università Karl Marx. Ora, Università di Lipsi ha dovuto un tutorato di chimica quantistica nel 1986, ha lavorato come ricercatrice lì fino al 1989. La cancelliera si è unita alla politica sulla scia delle rivoluzioni del 1989 ed è stata vice portavoce di Lothar Meiziere, il primo capo del governo della Germania dell'Est democraticamente eletto nel 1990. Dopo la riunificazione tedesca è stata eletta al Parlamento federale per lo stato del Mecklenburg-Warpommern. La Merkel, che è allieva del cancelliere Helmut Kohl, è stata nominata ministro federale per le donne e la gioventù nel governo di Kohl nel 1991-94 è diventata ministra federale dell'ambiente, della conservazione, della natura e della sicurezza nucleare. È serita alla più alta carica politica nel 2005, quando è stata eletta prima cancelliera donna della Germania ed allora è in carica la Merkel e tra le altre donne leader che hanno vinto riconoscimenti per la corretta gestione della pandemia, Covid-19 nei rispettivi paesi, portando un minor numero di morti e infezioni. Nel suo primo discorso alla nazione sul coronavirus, la Merkel ha fatto appello alla ragione e alla disciplina dei cittadini per rallentare la diffusione del virus. Invece Kamala Devi Harris ha fatto la storia nel novembre dello scorso anno diventando la prima donna e donna di colore a essere eletta vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Sebbene sia diventata la prima donna vicepresidente, figlia di un padre giamaicano e di una madre indiana, non è strana a fare la storia, è stata la prima donna di colore a diventare procuratore generale della California, la seconda a diventare senatrice degli Stati Uniti, è stata anche la prima indiana d'America a servire come senatrice degli Stati Uniti e la seconda donna afroamericana. La Harris è stata la quarta donna a comparire nel gioco presidenziale, dopo la candidata alla vicepresidenza democratica Geraldine Ferraro nel 1984, la repubblicana Sarah Palin nel 2008, Hillary Clinton nel 2016 ed è la prima a vincere. Parlando dopo la vittoria ha detto anche se fossi la prima donna in questo ufficio non sarò l'ultima perché ogni bambina che guarda stasera vede che questo è un paese di possibilità e ora sa che possono farlo anche loro. Le due leader politiche globali sono tra le poche donne che occupano altre cariche politiche nei rispettivi paesi. Secondo UN Women le donne sono sottorappresentate a tutti i livelli del processo decisionale di tutto il mondo e il raggiungimento della parità di genere nella vita politica è lontano. L'Agenzia delle Nazioni Unite afferma che solo 22 paesi hanno donne che servono come capi di Stato o di governo con 119 paesi che non hanno mai avuto un leader donna. Le donne delle Nazioni Unite nelle loro attuali proiezioni mostrano che l'uguaglianza di genere nelle più alte posizioni di potere non sarà raggiunta in altri 130 anni. Mostra anche che i diritti e la leadership delle donne sono seriamente minacciati. Le proiezioni indicano anche che solo tre paesi al mondo hanno il 50% o più di donne in Parlamento e la stessa quantità non ha fatto donne in Parlamento. Indicano anche che le donne sotto i 30 anni costituiscono meno dell'1% dei parlamentari a livello globale. L'Agenzia rivela che solo il 21% dei ministri dei governi sono donne con solo 14 paesi che hanno raggiunto il 50% o più di donne nei gabinetti. Solo quattro paesi hanno il 50% o più di donne in Parlamento in camere singole o inferiori. Rwanda con il 61%, Cuba con il 53%, la Bolivia con il 53% e gli Emirati Arabi Uniti con il 50%. A livello globale ci sono 27 stati in cui le donne rappresentano meno del 10% dei parlamentari in camere singole o inferiori, comprese quattro camere singole senza donne. E con un aumento a anno di appena 0,52 punti percentuali, UN Women rivela che la parità di genere nelle posizioni ministeriali non sarà raggiunta prima del 2077. Il mese scorso la dottoressa Okonio Iwaiala è entrata nella storia dopo essere diventata la prima donna e la prima africana a essere stata scelta come direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, posizione che ha un ruolo importante nell'avanzamento del commercio e della cooperazione globale, l'ha resa essenzialmente una delle donne più potenti al mondo. In qualità di capo del potente organismo globale, la dottoressa Okonio Iwaiala supervisionerà l'attuazione di una serie di regole concordate multilateralmente che disciplinano le politiche che interessano sia il commercio di beni e servizi sia la protezione della proprietà intellettuale. Supervisionerà anche l'amministrazione delle regole, la risoluzione delle controverse commerciali e il proseguimento dei negoziati per ridurre le barriere commerciali e per rafforzare ed estendere le regole multilaterali. L'esperienza della dottoressa Okonio Iwaiala conferisce solide credenziali. Dopo aver studiato economia ad Harvard e al MIT, ha trascorso 25 anni alla Banca Mondiale. Era un economista dello sviluppo, lavorava nel programma delle riforme politiche e alla fine ne divenne l'amministratore delegato. È stato anche ministro delle finanze nella Nigeria due volte nel 2003-2006, nel 2011-2015 ed è stata la prima donna ad assumerne il ruolo. Ha ricoperto molti altri ruoli di leadership dal 2016 al 2020, ha preseduto Gavi, la Vaccine Alliance, un parternariato sanitario globale pubblico privato che lavora per migliorare l'accesso ai vaccini per i bambini nei paesi poveri. La nuova direttrice generale dell'OMIC siede anche nei consigli di amministratore dello Standard Chartered PLC e Twitter. Fino all'anno scorso ha preseduto il consiglio di African Risky Capacity, un'agenzia che aiuta i governi africani a prepararsi e rispondere meglio ad eventi meteorologici estremi e a disastri naturali. È rinomata come la prima donna africana candidata a concorrere per la presidenza del gruppo della Banca Mondiale nel 2012, sostenuta dall'Africa e dai principali paesi in via di sviluppo nella prima gara veramente contendibile per il più alto posto di finanza per lo sviluppo del mondo. Secondo le Nazioni Unite, l'Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, l'UNESCO, le donne sono sottorappresentate ai livelli senior all'interno delle organizzazioni internazionali che danno forma a gran parte del dialogo globale sull'istruzione. Nel Global Education Monitoring Report, l'UNESCO indica l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. L'OSCE a ottobre 2017 aveva 16 direttori su 21 e 7 capi di agenzie e identità speciali su 8 erano uomini. Per quanto riguarda le agenzie di aiuto bilaterale, il rapporto indica la rappresentanza delle donne in tre dei primi dieci donatori era mista a partire del 2015. Un'analisi del 2020 condotta da Merceres su oltre 1100 organizzazioni in tutto il mondo ha trovato nella leadership con solo il 20% di donne che fanno parte dei dirigenti, dei senior manager 29, dei manager 37 e dei professionisti 42%. Trade Experts, un gruppo di esperti e giovani professionisti con esperienze in politica commerciale, economica, diritto e regolamentazione commerciale ha recentemente indicato che su 30 grandi organizzazioni internazionali più della metà non ha mai avuto una leader donna e di quelli che ne hanno, la maggior parte degli incaricati erano donne provenienti dall'Europa e dal Nord America. In totale il gruppo ha notato che ci sono state solo 33 donne in posizioni di leadership tra i 291 leader nelle 30 principali organizzazioni internazionali che coprono la maggior parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate. Inoltre, 15 organizzazioni che costituiscono la metà di quelle campionate non hanno mai avuto una leader donna tra le 33 donne leader identificate solo 5 sono state nominate prima del 2000. Un recente studio di Barband ha rilevato che più della metà delle donne ha cambiato il modo in cui si vestono in palestra per evitare molestie. Barband ha confrontato 1300 donne a livello nazionale negli Stati Uniti rivelando le molestie negli ambienti di esercizio come palestre e fitness club. Ecco alcuni dei risultati. Più della metà ha cambiato il modo di vestirsi per evitare modestie. 4 su 5 riferiscono di sentirsi insicure nelle palestre. Il 93% delle donne ha riferito che i propri allenamenti sono stati influenzati negativamente da attenzioni indesiderate in palestra. Il 75% ha detto di essere stato molestato richiamato almeno una volta la settimana durante l'allenamento. 3 su 4 hanno ricevuto consigli e indicazioni di allenamento non richiesti in palestra. Il 64% dell'intervistata ha cambiato palestra o modificato i propri programmi di allenamento per evitare molestie. Deborah Schwartz si aggiusta il microfono sul bavero. Vestita con una parrucca bionda, la faccia piena di trucco e un abito a collo alto a maniche lunghe realizzato da un design chazzidico di Brooklyn, Schwartz è pronta per salire sul palco. Il suo pubblico? Solo donne e ragazze che hanno acquistato i biglietti per il suo concerto virtuale circondata dalle sue ballerine, le rocchette. Un decennio fa l'idea di una pop star ebrea ortodossa era qualcosa di fantasiosamente selvaggio. Si legge sulla rivista Glamour. Mentre una giovane donna laica con sogni di carriera di cantante potrebbe avviare un canale YouTube, cercare di trovare un agente, prenotare concerti nei locali, nella comunità ebraica ortodossa, essere donna con talento musicale è più complicato. Le leggi tradizionali della modestia stabiliscono che agli uomini è vietato ascoltare il canto femminile col isha, che si traduce in la voce di una donna ed è preso alla lettera. Da adolescente a Monsei, New York, Schwartz ha insegnato canto e danza in una scuola di spettacolo per ragazze religiose locali. Sentiva che quello era a suo posto finché non ha deciso di studiare con un trainer vocale, Stephen Shurman, che le ha detto «hai una voce classica, puoi essere una star internazionale». Schwartz in quel momento gli rise in faccia. Era una sposina e suo marito era uno studente della Lakewood Yeshiva, più o meno l'equivalente di un'università per religiosi. Semplicemente non la considerava una scelta, dice in un'intervista da Vital Czik Goldschmidt nella sua casa a Jackson in New Jersey. «Le mie canzoni non sarebbero mai state cantate ai matrimoni, non sarebbero mai state suonate nei negozi come le canzoni dei uomini. È triste, ma è così». Ma Shurman credeva in lei e la incoraggiava a continuare a cantare nonostante le difficoltà. Quando Schwartz ha iniziato a pubblicare le sue canzoni su Instagram con un disclaimer solo per donne e ragazze, è stato allora che tutto è cambiato. All'inizio ha ricevuto critiche dai membri della comunità. La gente diceva «Cosa stai facendo? è col Isha». «È stato molto difficile per me», racconta la Schwartz. «Dovevo capire come mi sentivo al riguardo», spiega la cantante. «Mio marito continuava a ricordarmi. Ti è permesso creare cose kosher, devi solo vivere la tua vita, ignorare le persone». «Ho subito molte molestie online all'inizio, perché quello che stavo facendo era così audace, così diverso, così nuovo», dice Schwartz, aggiungendo che ha imparato a bloccare immediatamente gli account che la molestavano, creando una comunità online curata. Ma ora c'è un tale boom nel settore, le persone si sono abituate, lo apprezzano. Tre anni dopo, Schwartz ora ha quasi 20.000 follower su Instagram, una serie di video musicali, un calendario fito di concerti, lezioni di canto, in cui le ragazze, in lunghe gonna, pieghe uniformi, camicette abbottonate, si esercitano a cantare Halo di Beyoncé. Gran parte della motivazione di Schwartz è quella che vede come una responsabilità per una futura generazione di religiose. Se guardi le pop star di oggi, non si tratta di musica, è tutta una questione di sesso, ma una missione diversa. Dare potere alle ragazze e alle donne possiamo dare loro a qualcosa di divertente, pop, dove non devono andare a guardare e ascoltare altra musica là fuori. L'ebraismo ortodosso ha sempre inviato messaggi contrastanti a ragazze e giovani donne interessate alle arti dello spettacolo. Già prima della seconda guerra mondiale, il teatro era incoraggiato nelle scuole femminili ebrei e polacche come forma per promuovere l'autostima e la creatività nelle giovani donne, ma doveva essere fatto in spazi strettamente femminili. Quella pratica è continuata per tutto il ventesimo secolo, quando in qualche modo l'ortodossia è diventata ancora più rigorosa. Al di là degli anni scolastici, una voce femminile di talento e addestrata è stata raramente ascoltata. Per quasi un secolo, quindi queste donne hanno dovuto affrontare un dilemma angosciante. Cosa fai quando nasci con un dono ma ti è proibito religiosamente usarlo? Franziska Kosman è cresciuto in una famiglia rabbinica mosca dove era circondata da una vivace scena culturale. La musica era la mia seconda lingua, dice dalla sua casa a Filadelfia. Moff sempre saputo che avrei smesso all'età di 12 anni non appena sarei diventata una bat mitzvah e considerato una donna non mi sarebbe stato più possibile esibirmi di fronte ai uomini. Negli ultimi decenni a molte giovani religiose è stato detto che la voce era una ricerca senza speranza nel peggiore dei casi, un hobby segreto nella migliore delle ipotesi. La gente non considerava che le donne potessero avere una carriera, dice Schwarz. Ci hanno sempre detto hai solo metà del pubblico. Ma con Instagram le giovani religiose potrebbero iniziare a prendere l'iniziativa a esibirsi e pubblicizzare la propria musica online. Secondo Jessica Roda, assistente professoressa alla Georgetown University che sta scrivendo un libro sulla performance heart delle donne ebree ortodosse, Instagram è una piattaforma perfetta per la musica femminile. È diventato noto come uno strumento necessario e anche nelle comunità più conservatrici i social media sono consentiti per il bene di costruire un'impresa, afferma questo è davvero interessante perché l'arte è diventata business. Anche il coronavirus ha accelerato questo cambiamento con le performance virtuali che sono diventate la norma. Il covid ha effettivamente mostrato a tutti che una volta che sei diventato internazionale ti esibisci virtualmente anche se rappresenti la metà del pubblico del mercato il mondo è grande, afferma Schwarz. Il cui recente concerto di Annuca ha venduto migliaia di biglietti. Ha aggiunto le canzoni degli uomini non la fermeranno. Le donne vogliono ascoltare le voci femminili. Braca Jaffe 33 anni, madre di 5 figli è cresciuta a Brooklyn in una famiglia di cantanti. Ha preso lezioni di canto dall'età di 11 anni. All'epoca non se ne sentiva parlare nelle nostre cerchie. Le ragazze allora non prendevano lezioni di canto ma i miei genitori erano pensatori moderni e questo era ciò che mi rendeva felice. Mentre era una sposina incinta alla scuola per infermieri Jaffe ha iniziato a esibirsi sul palco in occasione di enti femminili locali quando un amico l'ha convinta a usare i social media per la musica e si è ripromessa di porre limiti rigorosi ha aperto un account di Instagram privato dove avrebbe potuto moderare il suo seguito da vicino. Ho questa lotta costante. La gente dice cosa ti metti su una piattaforma pubblica se non è modesta? Dico come faccio se voglio raggiungere più persone? Ora 5 video musicali e 12.000 followers dopo Jaffe dice di avere i giovani donne ebrei ortodosse che si mettono in contatto spesso con le canzoni che stanno scrivendo voglio aiutare le ragazze cantare e produrre forse il mio prossimo passo sarà avviare un'etichetta discografica femminile ortodossa penso che gli uomini siano molto sorpresi di come l'industria musicale femminile non solo stia esplodendo ma interferisca con il loro mercato dice Schwartz con un sorriso e una strizzatina d'occhio ma non importa quanto duramente queste donne performer cerchino di rispettare le regole la passeggiata a volte è dolorosa una volta Schwartz è stata invitata a esibirsi in un campo estivo femminile quando è arrivata il direttore del campo le ha detto di togliersi le extension delle ciglia erano troppe e le ha detto che non le piaceva il vestito che aveva scelto lo staff ha quindi girato per il campo raccogliendo vestiti alternativi da far indossare alla loro artista ha dovuto indossare il vestito di qualcun altro riferette Schwartz anni dopo si sono offerti di mandarmi a casa con uno segno ma ho deciso che il mio nome e la mia reputazione erano più importanti di così non permetterò qualcosa come il mio aspetto di intralciare il contatto con queste ragazze Rachel Sam è una madre single di tre figli parla con la giornalista di Glamour tramite la video chat dalla sua macchina con il suo bambino che dorme nel sedile posteriore indossa un rossetto rosso acceso un berretto giallo senape una ciocca di capelli ramata Sam è stata una rapper nel cuore anche mentre cresceva in una famiglia Lubavitch a Milwaukee ha una visione leggermente diversa dell'industria della musica religiosa non mi piace l'atmosfera tossica di positività abbi speranza Dio è qui per te dice è abusato e non c'è sempre speranza sono arrabbiata per quello che Dio mi ha fatto nella vita ma non potrei andare avanti senza la mia fede continua sento che il rap è un genere costruttivo per canalizzare quelle emozioni un mezzo in cui la rabbia può essere trasmessa in modo più palpabile ora Sam viene chiesto di esibirsi alle tavole del sabato e alle conferenze per le mogli dei rabbini una cena di magnificenza per donna Brown Nights l'ha trovata mentre si esibiva in un rap sul palco con un neonato che alleattava tra le braccia la lunga parrucca e la coperta da infermiere che le ondeggiava la prossima canzone di Sam parla di violenza domestica per Jessica Roda la professoressa di Georgetown l'industria musicale delle donne religiose incarna un cambiamento più ampio nella comunità è qualcosa di più grande di un semplice cambiamento di musica è un cambiamento di come le donne possono essere di ciò che le donne possono fare molte di queste donne erano artiste che non si adattavano al modello tradizionale erano i margini ma i margini stanno arrivando molto più al centro il rap sembra essere sempre più popolare tra le giovani religiose come piattaforma per la poesia che è notevolmente più acuta e che può essere considerata non cantare secondo la legge ebraica quindi musica che gli uomini possono ascoltare nell'ultimo anno una donna ortodossa che si chiama Young Gris la sua vera identità rimane sconosciuta ha pubblicato canzoni che colpiscono profondamente la femminilità religiosa questo è solo parlare rapa in un misto d'inglese ebraico non sto cantando metto in pensieri a ritmo i suoi testi sono così intelligenti talmudici e considerati un dominio maschile nella maggior parte della comunità che un commentatore di youtube ha scritto in nessun modo una donna può aver scritto questi testi il gr in rete le notizie dal mondo un commentatore